Colpo di scena nella vicenda derivati, la Corte d'Appello di Milano ha assolto le quattro banche ritenute responsabili in primo grado per truffa ai danni del Comune di Milano. I giudici della quarta sezione penale dopo solo un'ora di Camera di Consiglio hanno ribaltato la sentenza UBS, Deutsche Bank, Depfa Bank e GP Morgan condannate al pagamento di un milione e alla confisca di 89 milioni di euro in primo grado per non aver fornito sufficienti informazioni sui rischi, sono stati assolti con formula piena come anche i nove dirigenti bancari condannati per truffa. Il fatto non sussiste, secondo i giudici, che hanno scritto un altro capitolo della vicenda legata a questi strumenti finanziari utilizzati dalle amministrazioni di centrodestra Palazzo Marino. La caratteristica principale dei derivati è che il loro valore deriva appunto da quello delle attività a cui sono legati ad esempio valute, merci, titoli, crediti o indici finanziari. Nati per coprire imprese e istituzioni da una serie di rischi legati alle loro attività sono diventati con gli anni uno degli affari migliori per gli speculatori a causa della loro elevata volatilità. Soddisfazione da parte dei quattro istituti bancari per l'esito dell'appello. Accogliamo con favore la sentenza emessa oggi che ha confermato che Deutsche Bank e i suoi dipendenti hanno agito correttamente nel rispetto della legge. scrive in una nota stampa l'istituto tedesco.